Ti piace? È bellissimo. Allora, va bene? Grazie. Sessi! Volevo presentarvi il nostro nuovo direttore creativo. Buongiorno. Sei della bilancia, vero? Per me l'astrologia è una cretinata. Cioè, tu davvero esci solo con persone astrologicamente compatibili? E funziona? Non mi lamento. Sono due anni che ti nascondi dietro questa amicizia. È arrivato il momento di spiccare il volo. Sappiamo di che segno è? Davide mi ha raccontato di ieri sera. Quello che il dottor Bodrato vuole dirle è che ha molto apprezzato l'idea che mi ha raccontato ieri sera. Io? Tipo uno show sull'astrologia. Questa è la tua carta astrale. Mi stai prendendo in giro? Perché? La mia casa dell'amore è praticamente un enorme buco nero e ci lamentiamo che non trovo un fidanzato. Ti rendi conto che stavo per dirglielo? E poi? E poi li ho vomitato addosso. Bocca al lupo. A te. Magari questa può essere la mia occasione per essere felice, no? Se la gente sapesse dietro tutte le scene romantiche quante complicazioni ci sono. Secondo me non lo vorrebbe sapere. Solo una curiosità. Di che segno mi hai detto che sei? Non te l'ho mai detto. Non te l'ho mai detto.